La Lega con i consueti gazebo tra la gente, in mezzo alla gente e sul territorio e anche a Varese, nonostante dobbiamo cercare di trovare una sintesi in queste ore per il candidato sindaco che guiderà la coalizione di centrodestra, ma sicuramente la cosa principale per l'Italia è quella di tentare di essere a contatto con la cittadinanza per mettere in fila quali sono le priorità del programma elettorale della Lega e del centrodestra per le prossime elezioni amministrative. Dopodiché per quanto riguarda il candidato, siamo a un passo rispetto alla scelta grazie anche alle disponibilità che più di una persona hanno dato alla coalizione di centrodestra. Credo che a inizio di settimana prossima coloro che avranno responsabilità per i partiti di centrodestra di dover decidere il candidato sindaco lo annunceranno. Credo, mi auguro, credo non sbagliare nel dire che a metà settimana prossima potremmo avere un quadro delineato.